Oggi vi parlerò di Peugeot 208 Active, bellissima, comoda e soprattutto compatta. Il profilo anteriore è dotato di fari a LED e un profilo cromato più spesso. Inoltre, il design ha linee affilate, precise ed aggressive. Gli specchietti sono elettronici, ma vieni a vedere com'è al suo interno. A bordo il comfort è il top. Infatti, con i sedili ergonomici e la tecnologia i-cockpit, un volante più piccolo e maneggevole ti permette di fare manovra più facilmente. La guida è comoda e morbida anche grazie alla perfetta distanza, seduta, cambio. Il touchscreen 7 pollici al centro della plancia è in una posizione comodissima per non distrarmi mai dalla guida. Inoltre, con la funzione Bluetooth posso connettere il mio smartphone e rispondere alle chiamate direttamente dai tasti sul volante. Grazie alla presa USB, il mio smartphone non rimane mai a secco. Peugeot 208 Active, km 0, la trovi qui da noi a Ratti Auto per soli 13.200 euro oppure a 166 euro al mese con la promozione Ratti Easy, che è l'unica senza obbligo di anticipo. Cosa aspetti? Vieni a provarla, ci trovi a Barzago a soli 30 km a nord di Milano. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!